Andiamo a vedere quindi chi sono i volontari di un ente del terzo settore e l'incompatibilità con qualsiasi forma di loro pagamento. Come immagino molti di voi sappiate, i volontari hanno un articolo dedicato all'interno del codice del terzo settore, il decreto legislativo 117-2017 e per la prima volta si dà loro una definizione. Il volontario è una persona che per sua libera scelta, quindi non è costretto, svolge attività in favore della comunità e del bene comune anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiari della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Questa definizione è molto importante e nasce da tutta una serie di aspetti che ce li chiamava anche l'ingegnero Rotondi poco fa. bisogna fare un passo indietro. Negli anni passati ci sono stati grandi scandali per delle forme di sfruttamento di tutta una serie di lavoratori all'interno di associazioni no profit che invece di essere assunti venivano fatti passare per volontari e invece di essere eh retribuiti venivano ricompensati con dei rimborsi ehm con dei rimborsi ehm con dei rimborsi ehm a volte eh rimborsi a pedilista finti per cui si chiedeva volontario di portare gli scontrini del ricevuto di qualsiasi cosa anche della famiglia per creare un cumulo mensile non so di sei settecento euro e poi rimborsarli. a volte proprio dei rimborsi forfettari. Ho visto anche fare direttamente dei bonifici bancari dal conto associazione al conto del volontario scrivendo soltanto rimborso mese di senza aggiungere nient'altro. ehm e questo chiaramente era un problema perché spacciare un'attività eh eh lavorativa per un'attività eh di volontariato senza andare a pagare uno stipendio quindi senza le tutele del lavoro e eh senza versare i contributi e e e senza che questo reddito poi eh generasse delle tasse da rivolgere verso lo Stato chiaramente è un problema. e quindi eh è per questo che eh è per questo che lo Stato è andato a intervenire così pesantemente sugli imborsi ai volontari proprio per eh bloccare questo fenomeno. però per essere onesti e sinceri bisogna fare anche un altro ragionamento perché adesso noi qui stiamo venendo soltanto la parte eh come dire eh 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 più ligia al dovere no? del perfetto rispetto delle norme del perfetto comportamento del cittadino virtuoso eh c'è però un'altra faccia dalla medaglia. Un'altra faccia dalla medaglia è che in Italia esistono tutta una serie di eh servizi estremamente costosi che eh sono indispensabili che lo Stato non offre che offre soltanto il privato e che eh che appunto eh 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 se non fossero erogati oggi da associazioni no profi attraverso dei finti volontari spacciati per lavoratori eh si creerebbero dei problemi sociali veramente enormi e importanti. eh un esempio chiaro che mi viene in mente eh sono tutta una serie di strutture per eh per ospitare gli anziani non più autosufficienti eh in alcune zone d'Italia in cui appunto se eh la famiglia che non è più in grado di ospitare in casa l'anziano perché magari ha letto perché ha bisogno di cure e così via se la famiglia dovesse rivolgersi al mondo privato per al settore privato per eh eh per appunto eh far ricoverare il proprio caro dovrebbe spendere due tre mila euro al mese e ci sono famiglie che questi soldi evidentemente non ce li hanno per questo tipo di servizio ma hanno assoluta necessità. Eh capita quindi che ci siano delle associazioni che invece di avere dei lavoratori hanno dei volontari che offrono questi servizi anche a ottocento mila euro al mese in alcune zone d'Italia. E quindi qui c'è un problema perché è vero che c'è una forma di sfruttamento dei lavoratori ma è anche vero che c'è l'offerta di un servizio essenziale che lo Stato non offre e che le famiglie si trovano in qualche modo a eh ad aver bisogno. Eh e quindi ecco eh da questo punto di vista io credo che eh eh sia un problema da affrontare eh da parte della politica non da parte nostra che però sia sbagliato eh vedere il bene e il male come se non ci fossero delle gradazioni. Quindi il giusto sta da una parte e il male sta dall'altra. No non è così. La realtà è più complicata e eh 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 non si può fare appunto eh passatemi un po' la frase fatta di tutte le erbe a un fascio. Grazie. Grazie.